Grazie, grazie a tutto lo staff, a tutti i ragazzi che lavorano dietro, ai miei ragazzi sul parto, il mio gruppo. Ringrazio ancora tutto il mio staff, la mia casa di Storabia, questo, quest'altro, Santa Maria, tutti, tutti, grazie. Mi raccomando, buonanotte e sogni d'oro. Mi raccomando, ricordatevi di fare la pipì prima di andare a letto, perché poi bagnate tutto, madrasso, le lensole, tutte le robe, capito? Grazie!